A quasi un anno dallo spettacolare colpo all'Este Lunga di Marlia, dove una banda di malviventi smurò la cassaforte con l'ausilio di un escavatore, la cosiddetta Banda della Ruspa è tornata a colpire nella piana di Lucca. Ad essere preso di mira da ladri è stato il distributore QEAT sulla via romana a Porcari. Stesso modus operandi e stessi mezzi utilizzati. Intorno alle 3 di notte la banda ha rubato un escavatore dal piazzale della ditta Giannini, poco distante dal distributore e con quello ha diverto le due colonnine che contengono le casseforti degli accettatori di manconote. Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le pompe di carburante, mentre le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno vagliando le molte telecamere di sorveglianza presenti nella zona.